3 arresti, 400 persone identificate, 6 denunce per spaccio ed infine 200 grammi di sostanze stupefacenti sequestrate. E' questo il bilancio dell'iniziativa denominata Periferie Sicure, volta al contrasto dei reati in genere, dei reati connessi al fenomeno della microcriminalità, dello spaccio e dell'uso di sostanze stupefacenti. L'operazione è entrata nel vivo nei giorni scorsi. Dall'11 al 16 giugno, infatti, l'arma dei carabinieri ha portato a termine una vasta attività di monitoraggio del territorio realizzata attraverso la dislocazione di posti di controllo in varie aree sensibili cittadine e nelle zone limitrofe della periferia. L'iniziativa ha così permesso di trarre in arresto tre persone responsabili rispettivamente di detenzione e fini di spaccio di sostanze stupefacenti e false dichiarazioni sull'identità personale, controllare 249 veicoli e identificare 400 soggetti. Sono state inoltre denunciate sei persone per reati connessi al porto abusivo di arma da taglio, detenzione di stupefacenti e reati per la violazione della sicurezza sul lavoro, sequestrate infine 200 grammi di droga tra cocaina, marijuana ed hashish. Segnalate tre persone, inoltre quali assuntori di sostanze stupefacenti. Sono state infine contestate sanzioni amministrative per 9.000 euro a seguito di accurati controlli effettuati presso 17 attività commerciali, punto di aggregazione dei giovani aretini tra sale giochi, centri scommesse, pub e circoli privati.